salve a tutti ecco qui che vi ho messo tutte le ricette come promesso della pasta frolla così andiamo a chiudere il capitolo della della pasta frolla che l'ho fatto in tutte le versioni la pasta frolla classica la sablè la frolla montata abbiamo fatto il bilanciamento della pasta frolla adesso vi metto tutte le ricette che che non ho mai messo così avete proprio un quadro completissimo non completo completissimo alla partiamo da quella senza glutine per ciliaci qui abbiamo tutti gli ingredienti diciamo normali farina di mais fumetto la fumetto sarebbe farina di mais a grana molto fine che sarebbe proprio il centro del mais perché altrimenti sarebbe quella grana grande sarebbe quella per la volente non va bene quindi proprio la fumetto grana fine infatti qua l'ho scritto vedete la farina di mais fumetto vuol dire che a grana fine la lavorazione da fare quella classica allora o quella classica la solita che uno fa burro zucchero uova in ultimo la farina o quella sablè che sarebbe burro e farina poi zucchero a velo e infine le uova i tuorli o se no che per me è meglio che fate quella che vi dirò adesso perché dato la quantità è poca quella di impastare tutto insieme voi mettete tutti gli ingredienti in planetaria insieme e li impastate tutti quanti insieme il burro deve essere in pomada però quindi è molto morbido perché altrimenti se mettete il burro duro non gliela fa impastare è il migliore impasto per poca quantità poi vi ho messo la ricetta della pasta frolla al formaggio che sarebbe per le lavorazioni salate avete mai visto le barchette di pasta frolla con con patè di salmone di olive di fegato è buonissima qui abbiamo bisogno delle uova intere per dar di più corpo ecco una cosa importante qua siccome c'è il parmigiano quindi lavoriamola il meno possibile infatti qua c'è lo scritto lavorate l'impasto meno possibile per evitare di far prendere nervo e rovinare tutto far riposare in frigo due ore prima di essere lavorato quindi come assorbe tutto quanto togliete pure quando la andiamo a lavorare la tocchiamola il meno possibile poi abbiamo la pasta frolla magra che serve per le lavorazioni di dolci croccanti che vuol dire vuol dire avete mai visto i biscotti quelle fatte a soggetti a forma il pagliaccetto il leoncino cioè per capirci quella deve rimanere bella bella forte come frolla quindi se fosse troppo friabile si romperebbe e anche in cottura si deformerebbe un pochettino invece questa è fatta proprio per fare queste cose e questa è la ricetta poi abbiamo la pasta frolla alle nocciole questa è ottima dovete fare dei dolci alla nocciola al cioccolato al gianduia fate una bella frolla alle nocciole sotto qui abbiamo la pasta di nocciola pura questa o la fate voi o se no la comprate e la polvere di nocciole tostate poi vi ho messo la pasta frolla al pistacchio anche questo per un dolce al cioccolato al pistacchio abbiamo qui appunto una bella pasta frolla al pistacchio abbiamo la polvere di pistacchio nella pasta frolla abbiamo le uova intere per la pasta frolla invece alle mandorle noi facciamo la stessa identica al pistacchio invece della polvere pistacchio ovviamente ci metteremo la polvere di mandorle qua ce l'ho scritto poi abbiamo una pasta frolla al cacao che già ho fatto il video di questa qua comunque ve l'ho messo uguale impastiamo tutto insieme non mi stanco mai di dirlo poi la pasta frolla classica la pasta frolla a milano dove il peso di burro e zucchero fanno il peso della farina quindi 250 burro 250 zucchero 500 farina povola classica grammi 100 uova intere vabbè poi il sale fino vaniglia e arancio grattugiato come aromi poi una pasta frolla apposta per le crostate questa è fatta proprio apposta per le crostate vedete qua abbiamo il latte e un pochino di lievito lievito chimico sarebbe lievito in polvere è quello tipo bertolini quindi anche questa qua è utilissima la frolla per fondi la frolla per fondi vuol dire avete visto le tarte elettriche ho fatto anche il video che rimangono perfette che non cade dallo stampo diciamo la pasta frolla che rimane perfetta ecco questa qua è la ricetta proprio adatta e poi per ultimo ho messo la frolla a bretone la frolla a bretone sarebbe una frolla con il lievito infatti qua c'è il lievito chimico sarebbe sempre quello in polvere non so se avete mai visto tipo occhi di bue che vengono molto alti vengono sperati normali però cresce vengono molto alti è una vasta frolla buonissima morbida morbida e in mezzo ci va la marmellata ci sono diverse lavorazioni se vedete anche in giro lavorazioni con frolla a bretone ce ne sono parecchie e questa è la ricetta bretone sarebbe il nome del burro tedesco che si chiama proprio il burro bretone e allora è stata chiamata così giusto come curiosità ok io penso di avervi messo tutto il possibile vi saluto e ci vediamo al prossimo video grazie